cosa vi avevo detto io qualche giorno fa cosa vi avevo detto occhio al monza occhio al monza ha preso andrea lanocchia ci abbiamo fatto un video e oggi ufficializzano un altro colpo di mercato e che colpo perché questo qui è un portiere come si deve ragazzi esattamente stiamo parlando di cranio cranio che vestirà la maglia del monza il prossimo anno prestito con obbligo di riscatto un obbligo di riscatto che verrà a verificarsi qualora il monza dovesse centrare la salvezza in serie a cosa che se fanno questi tipi di colpi e questi tipi di mercato ragazzi il monza penso si possa salvare perché sta creando una squadra veramente importante lanocchia adesso cranio e non si fermano qui e non si fermano qui perché perché ragazzi c'è giò pedro sembra una cosa allontanata no che ne va un po ne ne va un pato l'altra volta è subentrato adesso pinamonti sembra che il monza abbia già fatto un'offerta per pinamonti all'inter 15 milioni bonus comprese l'inter ci sta pensando e se pinamonti va al monza è un colpaccio perché pinamonti abbiamo visto ragazzi la stagione che ha fatto la scorso stagione la scorso appunto campionato con l'empoli ma intanto il monza acquista alessio cranio porterone porterone e anni che cranio è in serie a con il cagliari fa sempre le sue sporche figure ci sono quelle volte in cui fa delle parate pazzesche subisce tanti gol perché non sono i suoi i demeriti secondo me perché è proprio una questione anche di difesa generale del cagliari che in questi anni ha fatto sì che ad alessio cranio vengono si siano fatti fare tanti gol però cranio le sue prestazioni le ha sempre avute positive sempre avute positive si è sempre messo in risalto non a caso comunque anche il potere nazionale io penso che sia il secondo titolare dopo ronarum eventualmente se dovesse esserci un successore e cranio che ha la che ha la diciamo priorità rispetto agli altri ed è un porterone che ragazzi fa comodo c'era anche la fiorentina su alessio cranio voletto ma alla fine vince la concorrenza del monza vince silvio berlusconi con galliani e ripeto il monza sta sistemando il reparto difensivo da come ora perché ha preso già la nocchia che comunque un difessore centrale ha preso cranio quindi tra i pali e più che sistemato più che sistemato veramente e adesso ripeto puntano anche l'idea pinamonti io la vorrei che questa società non non scherza per nulla ovvio si è parlato di una zona sinistra classifica e quella è veramente difficile che possa avvenire poi nel calcio ormai dire mai è il calcio è bello anche per questo però sapete zona si sarà classifica e significa che comunque il monza dovrebbe arrivare decimo sopra comunque squadre come lo stesso verona lo stesso torino di juric lo stesso sassuolo di lionisi squadre che comunque sono più anni in serie a squadre che per me comunque rimangono superiori al monza poi ovvio bisogna vedere il mercato che fa al monza quest'anno però non penso che il monza possa fare un mercato dove possa essere superiori a queste squadre perché queste squadre qua talenti ne hanno però sicuramente non dico che è quella che si sta muovendo di più perché comunque la cremonese ha fatto l'acquisto di basket ha acquistato anche il giovane 2002 della roma ho letto da qualche parte il lecce ha avuto il doppio colpo no si se il si se l'attaccante il va bene adesso mi viene l'altro nome comunque ha avuto due colpi anche anche lecce però a livello di esperienza livello di nomi ovviamente risaltano più all'occhio i colpi del monza perché ranocchia e cragno non sono due nomi assolutamente da buttare via ecco a fra botta la pole lecce fra botta quindi sono nomi che spiccano più in alto secondo me sono nomi che che sono importanti tra l'altro l'obbligo di riscatto di adesso cragno le cifre ancora dell'obbligo di riscatto io non le ho ancora lette conoscendo il valore del giocatore ragazzi se il monza si salva io penso che al cagliari andranno minimo minimo 15 bar a 20 milioni per il portiere che è cragno ad oggi le cifre ripeto non sono salte dall'occhio non ho lette ho solamente letto che praticamente l'obbligo di riscatto verrà riscattata appunto se se ci fosse la salvezza da parte del monza però non c'è scritto la cifra dell'obbligo ma io ho ipotizzato sui 15 20 milioni di euro niente ragazzi portierone portierone non sto qua fare un video lunghissimo perché lo conosciamo benissimo alessio cranio ed è un portierone quindi complimenti al monza per l'acquisto complimenti al lavoro di silvio berlusconi e di galliani questi non scherzano questi fanno sul serio ve l'ho detto ragazzi fanno sul serio niente video potete qua un video veloce se vi è piaciuto lasciate un bel like commentate questi documenti fatemi sapere un po voi cosa ne pensate appunto di alessio cranio al monza col faccio secondo me e iscriviti al canale che è importantissimo non costa nulla e per me vuol dire tantissimo vostro supporto ragazzi lasciate un bel like così fate capire aiuto che piacciono anche nei contenuti e iscrizione a manetta ragazzi se avete piacere con gli altri video per i vostri misi per iscrivere anche loro e attivate anche le notifiche così non perdere i prossimi video perché ragazzi almeno youtube manda le feed perché se no se non attivate la campanellina non le manda e ragazzi ancora l'ultima cosa link in descrizione bar di fasi channel qui abbiamo anche il rutto bella